Ciao Vincenzo Si è capito? Vincenzo BOTTA Cos'era più un scaffetto da mezzo Si vabbè non potevo spaccare questa camera costa 20 mila euro Cioè Cosa stai dicendo? Vincenzo 93 Vincenzo Minchia vincenzo sto in botta Ozzio Sto in botta Ho preso una botta Si va ho preso una botta E niente Ciao vincenzo Ciao vincenzo Bish